Un'altra pianta erbacea della famiglia delle asteracee che vi ho fatto vedere il rosetta basale è la micelis muralis, l'attuga dei boschi. Queste sono le foglie, non so se ve le ricordate dalla rosetta basale, ovviamente quelle caoline, quelle che crescono sul fusto cambiano un pochettino la morfologia. E questi sono l'infiorescenza, l'infiorescenza tipica delle asteracee, in questo caso formata da pochissimi fiori ligulati raccolti però in un capolino, capolino che assume questa disposizione piuttosto lassa. Vedete che ogni fusto porta diversi capolini, questa è possibile trovarla facilmente nei boschi, si raccoglie principalmente in primavera quando abbiamo la rosetta basale, la parte più interessante è sempre la rosetta basale, anche se non è male neanche in questa fase si mangiano principalmente le foglie. Vi rifaccio vedere il fiore che è molto molto piccolo, guardate rispetto alle mie dita. Eccolo qua, micelis muralis, l'attuga dei boschi, fiorita.